musica devi invitare chi è su ps4 tu non puoi invitare quelli su ps4 devono invitare loro non mi sparava and if i fell in love with you you promise to be true and help me understand stamm Allora Questa cosa di giocare sui server cross Finisca presto E veramente mi sono rotto Ma voi mi ha colpito Che sono queste cose? Non le capisco What? What, raga? Cioè nella mia visuale era morto No il cecchino io non lo uso Non mi piace il cecchino Troppo camper Come playstyle Quindi preferisco giocare con altre armi Ora me lo sto portando Solo perché ho lo slot libero Non per altre Di solito non uso il cecchino Non mi piace Diciamo che il cecchino Lo trovo molto lento e camper Come arma in un gioco del genere Preferisco avere un setup più per pushare Aggressivo Ma tutto bene con park Con park Vabbè con quel programma Grazie mille Shadox e benvenuto Nella dpg 333 Ora Mate Te lo devo veramente dire cosa devi fare O ci pensi da solo Persone scomode Intanto ormai fanno tutti il ghost picking Ormai tutti fanno il ghost picking Quindi persone scomode Cioè Diciamo che ci vuole timing E quella la cosa brutta Ando bellicidendo riesco a togliere Mi sta dando un fastidio allucinato Cioè Anche se ora il ghost picking Non si può fare Rimane comunque Cioè comunque non si può fare Non si può fare bene come prima Rimane comunque una cosa forte da fare Si è uscita la nuova badge What? Cioè Oh! E' vero, ricorda il capo di Heart Attack, c'hai ragione. Il Ghost Ping è il fatto che quando tu spari fai questo, ti alzi e ti abbassi dietro un head glitch. In modo che così quello lì non ti fa in tempo a vedere e tu riesci a sparare il colpo. Lo fanno tutti con il cecchino ed è una cosa noiosissima. A me nemmeno c'ho voglia infatti di fai dare a volte quando è così. Se comunque pare l'angelo di Dr. V pure. Fare un sacco di cose ragazzi. Oh! Terenas! Grazie mille, la potto! Contala, la puoi fare due ore. Io devo andare a giocare con Deluxe, mi ero organizzato con lui. Devo vincere una solo e poi vado a giocare un pochino con lui. Andiamo a fare... Dobbiamo fare squad. No, Lapo, ma scrivimi al cellulare, cazzo. Che ci organizziamo. Siamo io, Delu e mi pare che ci stanno... Due ragazzi di Melagoto con lui. Cavolo. La potto. Vabbè, ci organizziamo domani, Lapo, che ce frega. Lì non arriva il colpo. Lì invece sì. Vabbè, ci organizziamo domani, Lapo, che ce frega. Vabbè, ci organizziamo domani. Vabbè, ci organizziamo domani. Io ti... Vabbè, ci organizziamo domani. Vabbè, ci organizziamo domani. One shot Ti vengo a prendere baby Ammazza come ce l'abbiamo grosso Pazzo di merda va Te l'hai fatta a crepare Ce n'è voluto per farla morire al nostro amichetto Oh yeah baby Lock and load Lock and fucking load baby E ora si viaggia boys Lock and load Oh yeah oi schizzo Grazie a tutti. 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 Oh! Boom, baby! Oh, mi è entrato un colpo! Oh! Oh, senza mani! Guarda, mamma, senza mani! È troppo bello! Oh, pensavo che è stato sparando a me! No, merda! C'è uno dentro! L'ultimo lo faccio con il piede, l'ultimo lo faccio con il piede! Aspettate! Aspettate! Ehi, let's go, boys! Let's go, boys! No, 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 no!